La Piaggio è sempre stata parte integrante della città, anche se al di là dei suoi cancelli si apriva un mondo completamente diverso da quello che era il mondo della città, nel senso che sì che le persone più o meno erano le stesse, però nello stesso tempo al di là dei cancelli, con le officine, con l'hangar, era tutto un ambiente di lavoro che sembrava abbastanza avulso dalla realtà cittadina. Era praticamente, in Piaggio mi è sembrato di lavorare in una grande famiglia, proprio perché la stragrande maggioranza delle persone, quando uscivo poi nel paese, le rincontravo al sabato, alla domenica, quindi era un rapporto che si prolungava poi lungo tutto il periodo della vita. Ci hanno lavorato degli zii e per un certo periodo anche mio nonno, quindi la mia famiglia, come la stragrande maggioranza delle famiglie finalesi, hanno sempre avuto qualcuno che lavorava in Piaggio, sicuramente. Sono entrata nel 1985 come responsabile dell'informatica distribuita o dell'office automation, era un lavoro nuovo per l'azienda, perché in quell'epoca c'erano soltanto tre personal computer, quando sono entrata, uno all'ufficio personale e due all'ufficio tecnico e mi avevano dato appunto l'incarico di sviluppare questo settore. Quando sono andata via nel 1998 praticamente ogni dipendente o quasi aveva il suo personal computer e senza contare poi tutti quelli che erano in officina per il controllo numerico, eccetera. A un certo punto, negli anni poi a un certo punto mi hanno trasferito, mi hanno passato il responsabile della logistica per lo stabilimento di Finale Ligure, quindi mi occupavo di magazzini, trasporti e soprattutto anche delle cosiddette RDA richieste di approvvigionamento, cioè il mio settore doveva indicare all'ufficio acquisti quali materiali erano necessari per la costruzione di velivoli e per le revisioni dei motori. Quindi bisognava calcolare i fabbisogni e appunto richiedere l'acquisto di tutti i materiali necessari per la produzione. Dopo quattro anni di logistica sono ripassata nell'ambito informatico come responsabile dei sistemi informativi. Quindi è stata una carriera abbastanza divisa tra logistica e informatica e poi appunto nel 98 ho dato le dimissioni e me ne sono andata. Ho vissuto un periodo molto travagliato nella storia della Piaggio perché è stato proprio il periodo del fallimento praticamente, cambiamento di gestione e quindi ho vissuto insieme a tutti i miei colleghi questo periodo molto travagliato dove c'erano da indicare le persone per la casa integrazione, insomma ci sono stati dei momenti anche molto difficili, delle scelte difficili da fare nel tempo. Però è stato un lavoro bellissimo, è stato un periodo molto bello. I primi quattro anni dopo la laurea ho lavorato a Genova in Marconi e poi tramite il passaparola ho saputo che c'era questa opportunità di nuovi sviluppi dell'informatica in Piaggio e mi ha interessato questo discorso di far nascere un nuovo settore per cui ho fatto domanda e sono stata assunta. Io avevo vinto un concorso al Parlamento europeo e quindi ho dato le dimissioni e sono andata a lavorare a Bruxelles. Altrimenti non me ne sarei mai andata nonostante la crisi perché io in Piaggio sono sempre stata benissimo e ci avrei passato il resto della mia vita. Però di fronte a questa opportunità ho fatto la scelta di andare via. La Piaggio è andata in crisi varie volte. Probabilmente la difficoltà, proprio la tipologia dei prodotti, l'evoluzione tecnologica è sempre stata molto costosa e c'è stata anche una concorrenza abbastanza spietata da parte di altre grosse aziende. Per cui questa nostra piccola azienda ha sempre un po' subito i contraccolpi di aziende più potenti, più forti e quindi faceva difficoltà ad andare avanti in determinati periodi. Poi, forse proprio in seguito a questo, c'è stato questo momento di crisi legato al fatto che c'erano costi elevatissimi e quindi dovuti alla progettazione del P180. Un programma di ricerca e sviluppo costosissimo. Probabilmente non hanno fatto una particolare attenzione all'aspetto di produzione del velivolo. hanno dato molto peso ad investimenti proprio per la ricerca e sviluppo, per cui poi si sono trovati con un gioiello, ma di difficile produzione, molto costosa, quindi anche difficile da metterlo sul mercato. E quindi mettendo insieme tutti questi elementi è arrivata la crisi. Poi a quel punto Rinaldo Piaggio è dovuto andare via per il fallimento e si è trovata questa cordata di industriali che hanno deciso di acquistarla, di rimetterla in sesto. Però da allora, per quel che ne so io, perché poi appunto è stato proprio il 98 l'anno in cui c'è stato il passaggio di proprietà, io poi non ho seguito dall'interno l'evoluzione, però poi non c'è stata mai una vera ripresa, è sempre stata un susseguirsi di piccole crisi che però hanno sempre messo in difficoltà l'azienda, sempre tanta gente in casa integrazione, quindi una vera ripresa nel vero senso della parola, per quello che ne so io, non c'è stato e non c'è ancora tuttora. Poi in quel periodo io mi trovavo a lavorare nella logistica, quindi la vivevo proprio sulla mia pelle questa crisi, nel senso che i fornitori non fornivano più il materiale oppure lo fornivano proprio col contagocce perché la Piaggio poi non pagava i fornitori. E quindi ogni mattina dovevamo fare il calcolo con la produzione e con i vari capi officina per vedere quante viti, quante rondelle, quanti bulloni erano necessari, andarli a contare a uno a uno, sperare che nei cassetti ci fosse tutto il materiale necessario per poter assicurare la produzione della giornata oppure lo facevamo il giorno dopo. Era proprio un centellinare le cose, sperando sempre di trovare tutto e sovente invece il materiale mancava, per cui c'erano alcuni settori che dovevano fermare i lavori. Quindi è stato proprio un'attività molto difficile da portare avanti, poi con il personale molto demotivato perché ovviamente poi ci sono stati anche dei mesi in cui non sono stati pagati gli stipendi e quindi soprattutto il problema di fondo era l'insicurezza del posto di lavoro che ci coinvolgeva tutti, per cui grosse difficoltà sicuramente ad andare avanti. Però bisogna dire che nonostante un po' ovviamente di lotte, come è giusto che ci debbano sempre essere, c'è sempre stato un senso di responsabilità molto forte da parte sia di impiegati che degli operai che hanno sicuramente permesso all'azienda di andare avanti. Secondo me è stato fondamentale l'aspetto sociale, cioè l'aspetto di, appunto come dicevo prima, questa grande famiglia che si creava e penso che esista tuttora, anche se fosse in forma più limitata. E poi l'eccellenza tecnologica, visto il tipo di manufatti, sia per i motori che per i velivoli, occorrevano soprattutto per i velivoli che venivano veramente progettati e costruiti, conoscenze tecniche molto elevate sia per gli operai che per gli ingegneri che lavoravano nei vari uffici tecnici. A oggi possiamo dire che volendo per Finale potrebbe continuare ad essere un importante patrimonio. Finale è una città d'eccellenza per l'aeronautica, per Piaggio ma anche per il generale Stefano Cagna, che è stato nei primi del Novecento un importante avviatore. E quindi sarebbe bello, io sto cercando di mettere insieme un progetto che permetta di far ricordare ai turisti, a tutte le persone che passano da Finale, l'importanza, questa peculiarità di Finale per l'aeronautica. Che poi si potrebbe estendere in generale a tutti i mezzi di trasporto, perché se andiamo a scavare nella storia di Finale, possiamo dire che la Piaggia è nata per i cari ferroviari, non è nata come azienda aeronautica, quindi come un'azienda di tipo ferroviario. E poi la marineria pur è stato un settore molto importante nel Finale, coi cantieri navali. Quindi abbiamo avuto cantieri navali, settore ferroviario, l'aeronautica e poi la Piaggio doveva nascere, l'area Piaggio in realtà doveva essere acquistata da dei signori che volevano farne un'industria automobilistica. Quindi veramente abbiamo toccato un po' tutti i settori della logistica, dei mezzi di trasporto a Finale. Siamo abbastanza agli albori, però abbiamo messo da parte un po' di cimeli che cerchiamo di... Adesso stiamo cercando delle aree in cui poterli piazzare per poter fare appunto, in attesa dell'angar, speriamo che un giorno ci venga concesso l'angar, però in attesa vogliamo comunque metterli, esporli al pubblico in varie zone di Finale per poter ricostruire la storia di questa grande azienda. Si spera che questo progetto di Finale Mare vada avanti, ovviamente impattando il meno possibile sull'ambiente, sul paesaggio, sulle cubature, sulla cementificazione. Insomma, lì ci sarebbe molto da dire, però la speranza è che sia fatto qualcosa di bello, che non deturpi troppo quell'area e che però appunto almeno l'angare... Perché oltretutto l'angare anche da un punto di vista strutturale architettonico è molto importante, come anche la palazzina Uffici, perché il loro progettista è stato l'architetto ingegnere Momo, che ha anche progettato la scala elicoidale dei Musei Vaticani, quindi non è certamente l'ultimo arrivato. E quindi è importante la salvaguardia di questo hangar, come anche di altre parti dello stabilimento che storicamente e architettonicamente hanno una valenza molto importante. Quindi sarebbe veramente un peccato da un punto di vista anche culturale doverlo perdere. E poi, partendo da lì, costruire intorno un'area che dia alla città un respiro anche economico di un certo tipo, che non venga visto soltanto come un'area in cui costruire dei grandi palazzi e basta insomma, che si tenga conto di quello che è stato e quindi anche il rispetto della storia.